buongiorno oggi mi trovo a minusio e quello che vi sto per mostrare è un mono locale situato al secondo piano questa è l'entrata qui subito sulla destra abbiamo un comodo armadio a muro continuando di qui abbiamo un bagno completo di vasca da bagno vc lavabo e specchiera girando l'intervento accediamo al grande locale come potete vedere è anche separabile con degli armadi qui è stato installato un letto un divano ma volendo ci sta una separazione con l'armadio e da questa parte abbiamo la grande cucina cucina completa di frigorifero piastre forno lavandino e cappa e e qua abbiamo l'uscita sul balcone come potete vedere si intravede il lago siamo a minusio zona centrale a disposizione dell'appartamento ci sono dei posteggi subito qua sotto e c'è una cantina se vi è piaciuto chiamateci di affitto